Da soli sono incredibili! Insieme sono inarrestabili! Sono King Dedede, Meta Knight, Waddle Dee, Kirby Aspira Tutto, Kirby Sfera Magica, Kirby Mega Spada e Kirby Martellone! Fino a quattro amici possono giocare contemporaneamente con Kirby in un mondo ricco di divertimento! Kirby's Adventure Wii, solo su Wii! Fino a quattro amici!